Però è tutta una squadra molto corta, molto aggressiva, non abbiamo mai concesso a ripartire loro, che se riuscivano a farlo sarebbero stati molto pericolosi perché la velocità e la qualità tecnica di questa squadra loro è molto elevata. Non abbiamo mai permesso questo e siamo stati veramente bravi, peccato solo non aver chiuso l'acqua, non che perde il trio d'attacco davanti per potersi impensierire e anche un po' ce l'hanno fatto. Chiaramente siamo stati meno lucidi e abbiamo sbagliato qualche pallone in più, ma è più che normale quando arrivi a giocare 60-70 minuti con quell'intensità tre giorni dopo una partita, giocata a Cagliari, fatta fino in fondo per recuperare il risultato, lottando fino in fondo. Quindi il consumo è molto dispendioso, però la propria è stata quella anche di non perdere queste partite perché penso che non sarebbe stato difficile con la qualità che ha il Novara davanti, c'è solo Evacuo l'ultima partita. Siamo in diretta per la Lagozzurra, mister, un saluto a tutti gli sportivi novarese che l'ascoltano e che non smettono di attraudire l'attività del ser nel cuore. È ricambiato chiaramente perché 4 anni sono indimenticabili per me e per tutto quello che è stato fatto, ma soprattutto per l'affetto che mi hanno sempre dimostrato e che ancora oggi moltissima gente mi chiama, la sento. È una cosa bella perché ce l'ho anche io nel cuore e questa è la cosa che mi rende più felice. A dia dei risultati.